salve cari amici tuttubi sono francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla quest'oggi torniamo a parlare della sergio bonelli editore non con una non con due ma con ben tre storie a e fumetti non mi ricordo se vi ho mostrato tutto su instagram su letture da treno nel caso comunque ecco qui a parlare di tre di una serie in realtà e di due volumi nello specifico partiamo dalla prima lettura che ho fatto nel corso di questo della settimana scorso partiamo quindi da creepypast con sul fondo il bosco delle lacrime oltre la luce e la casa dei manichini la storia è scritta da principalmente bruno enna e giovanni di gregorio l'idea il concept grafico è di giovanni rigano sono anche altri disegnatori di questi quattro numeri nello specifico non li vado a leggere non ha molto senso perché vi parlo velocemente di questa serie serie che aveva dei tratti molto molto teen molto basati sul sulla ricerca di se stessi d'accordo il protagonista è kiro un ragazzino che vediamo qui molto ben espresso e molto ben disegnato un ragazzino che la ricerca della sua identità la ricerca della scoperta di chi è lui realmente lui che per qualche strano motivo è in grado di trasformarsi in una sorta di mostro chiamato creepy o meglio probabilmente questo creepy è dentro di lui incontra l'altare proprio per cercare di risolvere questi suoi problemi è stato inviato alla rem un istituto di ricerca sui disturbi del sonno e qui incontra tra gli altri anche ester una ragazza che ha visto una sua amica scomparire nel nulla e che vorrebbe ritrovarla e che sospetta avere a che fare con la rem stessa questo qui erano l'incipit dei primi due capitoli misteri se ne sono inseriti nel proseguo della serie quindi nei numeri 3 4 5 e gli autori hanno inserito i nuovi tasselli nuovi elementi di un puzzle che si è andato definitivamente a ricomporre nel sesto numero diversi misteri personaggi strani personaggi che si muovono in maniera strana personaggi ambigui nel mentre che per determinati motivi numero dopo numero abbiamo una sorta di creepypasta che ci viene raccontata con un mostro che proviene da quella creepypasta che per qualche motivo imperversa sulla terra e che i nostri protagonisti sono chiamati direttamente o indirettamente ad affrontare risolvere risolvendo quindi una determinata situazione la serie in sé per sé mi era piaciucchiata abbastanza i primi due numeri le avevo presi perché mi erano piaciute abbastanza avevo riscontrato un tagliottin che mi faceva dire sì e caruccia fatta bene l'autore sembrano in grado di poter portare avanti questo tipo di storia ma non faceva del tutto per me mi rendevo conto che un pochettino il tagliottino un pochettino questa nemico che compare di volta in volta faceva veramente troppo molta l'ambientazione orrore tutto quanto mi faceva dire sì ma mi interessa il giusto per quanto avessi detto già nei primi due numeri che la serie sembrava fatta bene e lo confermo neanche nel proseguo di questi quattro numeri la serie è fatta bene sviluppata bene intrigante ci sono dei personaggi che sono piacevoli da leggere il problema è che sono fuori target e la lettura di questi volumi mi hanno confermato un pochettino questa sensazione è stato piacevole arrivare alla conclusione della serie vedere come tutti i tasselli si insinuassero in questo puzzle e in che modo si andassero ad incastrare ma non penso di proseguire con una eventuale seconda stagione che molto probabilmente ci sarà se questa qui se questa serie ha avuto successo perché gli autori hanno lasciato molto spazio di manovra troppo spazio di manovra al punto che la serie non mi sento neanche di definirla completa perché mancano dei tasselli che il finale è apertissimo non è che manchino dei tasselli il finale risulta apertissimo si è risolto una certa situazione e fine l'altra cosa da segnalare è che i colpi di scena che ci sono all'interno della storia non sono nulla di così impressionanti personaggi ambigui ci sono ma sono in quell'ambiguo che è facile capire che sono in realtà dalla parte dei buoni questo comunque è una letteratura per una lettura pensata per un pubblico giovane e quindi il cattivo cattivo è evincibile fin dall'inizio gli altri che sono ambigui alla fine finiscono per sembrare per essere effettivamente più buoni di quanto non compaiono all'inizio della vicenda nulla da dire nulla di più da dire il taglio teen ci stava tutto ci sono delle tematiche secondo me teen che potrebbero essere veramente adatte a un pubblico più giovane più giovane intendo comunque adolescenziale intendiamoci quindi 12 13 14 anni forse anche 10 e anche se alcune tematiche affrontate qui mi fanno pensare più un'età un pochettino più grande quindi 12 13 14 anche perché più o meno l'età corrispondente dei personaggi inseriti all'interno della serie se come dicevo serie caruccia ma che non proseguirò perché non ne ho questo interesse il secondo volume di cui vi voglio parlare oggi è dumpier numero 224 il santo venuto dall'irlanda la storia è stata scritta da e ve lo vado a dire subito mauro boselli i disegnatori all'interno di questo volume sono un'infinità perché al di là del dei quattro disegnatori della serie che sono michele robini nicola genzianella michele cropera ma maio ci sono una serie di illustrazioni ideati da vari artisti italiani inseriti all'interno della storia questi artisti sono lucio parrillo ivan calvini paolo barbieri alberto del lago edvige faini luca zontini antonio de luca angelo montanini denny orizio questi disegni e illustrazioni che sono inseriti all'interno del volume sono comunque parte integrante del racconto ed è bellissimo come è a livello proprio di esperimento cercare di prendere dell'immagine delle illustrazioni pensate per un altro contesto in un'altra occasione e inserirle all'interno di una storia e renderle comunque parte integranti della storia stessa e con parte integranti non intendo che magari c'è un quadro sottofondo che ritrae quel soggetto ma ma e vi faccio un esempio concreto con una delle prime immagini qui abbiamo all'inizio siamo pagina 18 19 qui abbiamo un ordo di mostri che sta arrivando alcuni protagonisti che stanno facendo determinate cose e poi c'è l'immagine di paolo barbieri con i nostri che stanno affrontando quella minaccia e e sono tutte così questi inserimenti ed è una come esperimento a me io l'ho gradito veramente tanto a livello di storia che cosa ci racconta questo santo venuto dall'irlanda la storia prosegue su due storyline ben ben distinte quella più intrigante che è quella che mi ha spinto ad acquistare questo volume perché le tutta anche sul sito della sergio bonelli l'immagine di presentazioni erano quelle era la vicenda legata al passato un passato che inteso come 400 500 dopo cristo indicativamente con finnian un ragazzo dell'irlanda costretto ad affrontare una matrigna che in realtà è un mezzo demone e fuggire venire tra le altre cose per cercare di fermare questa matrigna a lucca il questo finnian questo nome qui in realtà è presumibilmente almeno l'autore di questa storia ha voluto in una sorta di finzione narrativa dare una spiegazione del perché una finzione letteraria quindi non c'è non so quanto ci sia qualcosa di vero c'è questo viaggio di questo ragazzo che proviene dall'irlanda c'è sicuro perché molto probabilmente san frediano patrono vescovo e patrono di lucca se non ho capito male comunque vescovo sicuro nel 500 dopo cristo e molto probabilmente era un ragazzo di nome finnian proveniente dall'irlanda e quindi si è cercato di creare un sottotesto legato alla mitologia di dampier per far giungere questo personaggio qui e poi fargli vivere un'avventura legata al paranormale ai mostri e quant'altro io non conosco dampier quindi l'ho preso proprio come mi piacciono i disegni voglio vedere la storia e la parte legata al passato questi mostri questi demoni questa avventura che stanno vivendo i giochi di poteri tra le parti sono tutti elementi che sono inseriti molto bene all'interno della vicenda e mi sono piaciuti tanto il problema avviene quando c'è la parte legata al presente con il protagonista il dampier del presente che non ho capito che relazione ha col dampier del passato se è la stessa persona se è padre figlio se è quello che è e ovviamente tutti i comprimari non conoscendoli era un personaggio un po' buttati lì sembrava esserci una sorta di qualche trama legata ad una macro vicenda più ampia che mi ha fatto dire sì vabbè ma io sto leggendo questa storia e non sto capendo cosa stanno facendo i protagonisti nel presente perché c'era qualcosa che si era collegato a san freddiano e quindi a quella vicenda del passato ma tutto quello che si stava muovendo sembrava legato ad una maxistoria più ampia di conseguenza ho apprezzato la parte legata al passato non ho gradito più di tanto la parte legata al presente anche perché non penso di voler seguire questo personaggio non è proprio il mio genere di lettura e quindi non ha senso che io prosegua e sarò molto curioso di vedere il film di dampier che hanno promesso per il 23 gennaio 2020 perché magari scopro un pochettino di più questo personaggio l'iniziativa comunque l'ho gradita perché comunque l'uso dei l'uso di fare una storia a colori non per un albo celebrativo non era un albo celebrativo questo penso almeno non sono i vent'anni della serie non è segnato da nessuna parte quindi non dovrebbero essere i vent'anni della serie o una qualche ricorrenza particolare però si è fatto per Luca per tutto questo background che c'era Luca questo albo è uscito in quel periodo lì nel periodo del Luca Comics and Games sono io che lo sto leggendo con molto ritardo e mi è piaciuto questo esperimento di inserire anche gli elementi scenici provenienti da altri media quindi a livello di sperimentazione mi è piaciuto a livello di vicenda del passato per quanto in alcuni punti mi sono sembrati un po' delle lungaggini l'ho comunque gradito la parte del presente secondo me si può tranquillamente saltare e ce n'è una buona parte in realtà non dico che probabilmente un terzo dell'albo dovrebbe essere la vicenda del presente che è un po' buttata lì secondo me è un po' troppo buttata lì probabilmente mostrare solamente la vicenda del passato avrebbe permesso ai lettori di non apprezzare non volere poi proseguire eventualmente un lettore occasionale non proseguire con la lettura della serie però è troppo confusionaria quella parte per potermi... per poi cercare di invogliarmi in un proseguo tutto qui albo che comunque non mi sento di sconsigliare se volete leggere qualcosa di un pochettino più particolare in ambito Bonelli perché comunque l'esperimento c'è e mi sembra anche piuttosto riuscito ultima lettura che ho fatto per la Sergio Bonelli Editore in realtà ho comprato anche altro ma non ho avuto tempo di leggerlo si tratta del Dylan Dog 387 che regna il caos meno 13 alla meteora ciclo della meteora che porterà dei grandi sconvolgimenti alla sua conclusione quindi dopo il numero 400 il logo di Dylan che si sta sgretolando questa copertina ha molto d'impatto volevo comprare a Luca Comics la copertina quella variant lenticolare ma quando chi è andato per farmi le spese non l'ha trovata perché l'ha già usurita non ho intenzione di spendere 6 euro più 7 di spedizione per farmela arrivare a casa quindi non ce l'avrò meno che non lo trovo nella qualche fiera in allegato a questo come si può evincere da qui c'erano i Tarocchi che dovrebbero essere qui i Tarocchi non sono un fan dei Tarocchi in realtà non conosco quindi diciamo che è stata comunque una sorpresa e molto bello il dettaglio grafico dietro ai Tarocchi il fatto che vengano riprese le figure per l'appunto dei Tarocchi riprendendo però i personaggi di Dylan in questa prima confezione c'era questa qui questa carta qui che dovrebbe essere tipo una sorta di copertina e i Tarocchi dall'1 al 18 dallo 0 al 18 avevo capito che devono essere 80 in totale quindi non capisco questa suddivisione sembra che ne manchi almeno uno però staremo a vedere se è un errore o quant'altro e passiamo in realtà alla parte più importante la storia e ve lo dico fin da subito io non ho seguito Dylan con continuità al punto di arrivare preparato a questo che regni il caos ho letto in realtà solo Mater Dolorosa i due numeri della serie regolare scritta da sclavi di questa seconda fase di Roberto Recchioni ai testi ovviamente troviamo Roberto Recchioni ai disegni troviamo due disegnatori e la cosa ha anche il suo senso i disegnatori sono Leo Max e Marco Nizzoli perché dico che questa cosa ha senso? perché l'albo è diviso nettamente in due parti una prima parte dove abbiamo questo ragazzone della copertina che si chiama Axel non mi ricordo come che in un impeto proprio brutale ha la sua ascia prende, uccide, taglia, affetta qualunque cosa la polizia interviene non riesce a far ronteggiare questa minaccia Dylan Dogg viene a scoprire che c'è questa minaccia in atto e interviene in una qualche maniera personaggio che da qualche capitolo esisteva già in una qualche maniera questo antagonista di questo capitolo e non so dove era collegato come era collegato e quant'altro mi è sembrato eccessivamente forte e brutale per quello che doveva fare però lascio il beneficio del dubbio la seconda parte invece l'ho trovata davvero interessante allora premessa che l'idea di una maxistoria un maxiciclo questo ciclo della meteora che vede l'arrivo di una meteora sulla terra il cui impatto sarà devastante per il pianeta e anche eventualmente ovviamente per Dylan Dogg è già abbastanza intrigante però l'idea è è intrigante vedere che cosa succederà dopo l'impatto in questo ciclo non ci viene detto che cosa succederà dopo l'impatto ma è una vera e propria sorta di preparazione a questo e non capisco questa cosa dove voglia andare a parare il che desta già curiosità il fatto poi che venga effettivamente detto all'interno di questo volume a un certo punto che manca più di un anno all'impatto della meteora rende la cosa estremamente metafomettistica perché effettivamente saranno 13 i numeri ed sembra che anche gli stessi personaggi i pochi personaggi che sappiano di questa meteora poi lo verranno a dire assoluto coprotagonista della vicenda è John Ghost che è il nuovo antagonista di Dylan Dogg dopo Xabaraz e voglio andare a recuperare sicuramente la sua prima apparizione perché mi manca qualche passaggio e voglio capire anche avevo letto Mater Dolorosa lui era lì presente c'era qualcosa di strano con Grucio qui Grucio sembra abbastanza normale in realtà quindi non capisco che cosa potesse essere successo però se la situazione di Grucio che sembra fare il doppio giochista si è risolta o meno nel caso scrivetemelo qui sotto in che albo eventualmente si è risolta sta cosa che magari prendo anche quello e se lo recupero se riesco a recuperarlo e tutta la seconda parte si basa sul fatto che si crea un vero e proprio una vera e propria applicazione per poter segnalare la presenza di mostruosità in giro per l'Inghilterra questo qui perché Dylan ha ovviamente risolto la situazione col serial killer di prima ed è diventata una sorta di icona e tutti vogliono essere come Dylan tutti dovrebbero cercare di essere come Dylan che possano risolvere i problemi questo concetto dell'applicazione è una forte critica alla società che Recchioni fa tramite questo volumetto ed è una eterna costante vedere i problemi legati ad una mossa ai mass media alla massa che si muove che segue un determinato percorso prefissato voluto da qualcuno evidentemente il fatto che Dylan si opponga perché lui non ritiene di essere così importante che ritiene di non essere così un eroe sono tutte tematiche in aggiunta al fatto che non tutti i mostri sono mostri ma che l'essere umano a volte è più mostruoso di un mostro e sono cose su cui questo albo si batte profondamente sono tutte tematiche molto intriganti che Recchioni che mi getta lì all'interno della storia e che per quanto non mi sia chiaro dove si voglia arrivare a parare perché comunque l'idea che questa questa meteora arrivi e possa avere un forte impatto non vedo che perché fare esattamente questo non capisco cosa si voglia raccontare in questi 13 numeri ma il fatto che non lo capisco non è una non è una critica non è un problema non è un difetto non capisco che cosa voglio raccontare allora è brutto no non capisco quindi sono curioso sono curioso ovviamente di vederne le conseguenze se ci saranno no? però il fatto che questa cosa anche l'app la massa che si muove Dylan che è ovviamente un sostenitore non del mostro ma del debole getta diverse note interessanti in qua e là e vi dirò non mi ha convinto al 100% sul volerlo proseguire o meno questa serie qui però mi ha messo molta curiosità quindi non so se proseguirò per tutto il ciclo della meteora se acquisterò tutti i 13 numeri del ciclo della meteora ma molto probabilmente anzi sicuramente il prossimo numero lo prendo perché semi molto interessanti ci sono stati ci sono state buone premesse c'è stato un bel clima diversi momenti un albo che riesce a coniugare bene l'azione la tensione i momenti calmi i dialoghi le introspezioni in una maniera molto quadrata è un albo direi quasi freddo calcolato e lavorato tavolino forse è questo che mi convince poco sembra molto precalcolato preconfigurato non ho letto molto di recchioni ma quel poco che ho letto soprattutto negli editoriali del Dylan Dog di Sclavi me l'ha fatto sempre sembrare un tipo molto quadrato freddo quasi distante e il fatto che si riconosca molto in John Ghost me lo fa capire ancora di più visto freddo calcolatore cinico e tutto quanto però forse un po' distante manca qualcosa manca qualche sentimento che avrebbe secondo me reso l'albo più fruibile è anche vero che si tratta di un'introduzione e da un'introduzione non mi aspetto ok troppo sentimento troppo patos però qui l'ho proprio sentito assente e non è un difetto in termini assoluti ma potrebbe essere se proseguo in questa linea è anche vero che da quel che ho capito questo ciclo sarà comunque suddiviso in scaglioni a suo modo scritti da autori diversi quindi ognuno ci riuscirà a mettere un suo per quanto ognuno racconterà un pezzo vi chiedo però una mano se ci sono dei passaggi più o meno importanti o che ritenete essere più o meno importanti per comprendere questo numero e eventualmente i più successivi scrivetemi nello spazio commenti qui sotto l'elenco dei numeri che è importante avere della fase 2 per poter apprezzare meglio quello che verrà mi hanno già fatto una sorta di lista quindi ok però scrivetemela che nei casi faccio un confronto e se più numeri ritornano diciamo in tutte le liste quelli sono quelli che sicuramente prenderò sicuramente prendo la prima apparizione di John Ghost perché è in dubbio ma ter dolorosa ce l'ho già e poi vedrò il proseguirsi visto che una meteora probabilmente andrò a recuperare anche spazio profondo che era il primo albo di inizio della collana della fase 2 che a questo punto potrebbe essere piuttosto importante scrivetemi nel caso altri numeri qui sotto nello spazio commenti questo è quanto avevo da dire per oggi qui da Francesco il popolo alle mie spalle dalla soffitta di camera meno più soffitta è tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao